La direzione di Marche Nord ha subito istituito una commissione interna di esperti per analizzare dettagliatamente l'accaduto e fornire tutte le risposte a tutte le domande che in queste ore si possono porre. Parallelamente a questa la procura ha aperto un fascicolo ed il sostituto procuratore Giovanni Nardone deciderà in base ai risultati dell'autopsia quali passi effettuare. Si attendono risposte anche sul decesso del feto che Carmen portava in grembo al momento del suo arrivo al reparto di ostetricia di Fano e che anche qui l'autopsia potrà dare un risponso chiaro e ineluttabile. Ma su una cosa non hanno dubbi i sanitari di Marche Nord. Tutto è stato tentato e Carmen era seguita e monitorata minuto per minuto. Il direttore sanitario dell'azienda stamattina ha parlato di un evento imprevedibile ed avverso. Uno di quegli eventi imprevisti non prevedibili che ti lasciano veramente spiazzato da questo punto di vista e quindi c'era questa grossa partecipazione emotiva. Questo l'abbiamo visto anche nel tentativo di mantenere in vita la signora dove è stata massaggiata per 75 minuti di fila quindi vuol dire che è stato fatto veramente di tutto. Gli eventi sono come avevo detto già nel comunicato stampa questa signora che si reca presso l'ostetricia di Fano chiedendo di essere accettata per poter partorire. Una paziente giovane senza nessun fattore di rischio secondipara quindi ha già avuto un figlio non ha nessun fattore di rischio riferisce però ai sanitari che da due giorni non avverte più movimenti del feto. Gli vengono fatte tutte le indagini diagnostiche immediatamente e immediatamente viene posta diagnosi di morte enduterina del feto. Questo vuol dire che già arriva con il feto morto da almeno due o tre giorni. Qui viene visitata dai clinici, vengono applicate le linee guida correttamente internazionali che prevedono una induzione del parto con prostaglandine. La signora viene adeguatamente informata, in ogni momento vengono coinvolti anche i familiari nelle informazioni, viene accettata in sala travaglio parto e qui viene fatta l'induzione del parto con il farmaco. Dopodiché verso le tre del pomeriggio inizia questa induzione del parto. È costantemente monitorata per cui intervalli regolari vengono ripresi tutti i parametri vitali. È a fianco dell'ostetrica, del ginecologo. Viene fatta questa induzione. L'anestesista è presente perché viene chiamato perché queste contrazioni uterine danno dolore e lei fa anche la partoanalgesia. Con a fianco l'anestesista improvvisamente verso lune di notte perde conoscenza e va in arresto cardiaco. Quindi è assolutamente in un momento di massima sorveglianza con tutti i clinici presenti. Tra l'altro in rafforzo viene chiamato un secondo anestesista. Arriva il cardiologo. Si applicano subito tutte le misure di rianimazione previste. Purtroppo la signora non riprende assolutamente il battito. 75 minuti, e sono veramente tanti, immaginate 75 minuti di rianimazione cardiopolmonare. Non riprende il battito e i clinici sono costretti a constatare il decesso. Carmen ed il suo bambino però ora non ci sono più. Ma la verità deve venire fuori, chiede a gran voce il marito, Francesco Miro. Ora ha torniato in momenti così difficili da tutti i parenti. Molte le domande anche della gente comune. Una fra tutte. Si è scelto questa cosa perché è la linea guida che ci impone di fare un'induzione del travaglio di parto, perché un taglio cesareo aumenterebbe ulteriormente i rischi a questa donna che ha un feto morto all'interno. Perché la placenta, che è un organo che è ricco di sostanze, in modo particolare la prostaglandina, può determinare praticamente delle reazioni avverse a livello del sistema cardiocircolatorio materno. Per cui noi ci siamo avviati al protocollo. Abbiamo indotto la paziente. La paziente alla prima stimolazione con una prostaglandina a livello vaginale non aveva risposto. Anche perché quella vaginale ha un'induzione molto più lenta rispetto a quelle utilizzate in dovena. È stata fatta una seconda induzione alle 9 di sera. Tutti gli operatori erano presenti e assistevano continuativamente la paziente, l'ostetrica, il medico di guardia, che hanno avuto secondo me una condotta ineccepibile. La paziente poi era anche collaborante perché poi ogni tanto si interfacciava con il medico, con l'ostetrica, chiedeva i tempi e praticamente tutto procedeva nella norma. Verso le 23 mi è stato riferito che la paziente aveva praticamente contrazioni abbastanza regolari, il che faceva supporre che il travaglio di parto che era stato indotto si era avviato. A un certo punto, nonostante che aveva ripetuto gli esami più volte durante la giornata, nonostante che era stata monitorizzata con il tocometro, nonostante che praticamente aveva un orientamento normale e psicologico, praticamente a un certo punto si è accasciata e non ha dato più risposta. Come si riaffronta il lavoro il giorno dopo? Come si ritorna nel proprio lavoro? Io stamattina sono arrivato in reparto e già avevamo due cesari programmati e una donna in travaglio. Ho chiamato i miei che erano di guardia stamattina, sia i medici, le ostetriche, le infermiere e gli ho detto ragazzi stiamo intorno, teniamoci uniti, quello che è successo praticamente ci deve solo servire per avere più forza e per dare più serenità alle pazienti che ci chiedono un aiuto e un'assistenza. In un mondo dove noi quotidianamente viviamo con la vita, noi siamo abituati a dar vita alla gente, a dare assistenza a questi neonati e quando succedono queste cose così drammatiche, vi giuro, noi siamo i primi ad essere praticamente distrutti dentro.